Sfuggito al proprietario o volutamente abbandonato? Pitone, come assicura chi l'ha incontrato, o molto più verosimilmente saettone, che sempre serpente è, anzi è addirittura il più grande serpente italiano e non è neppure raro da incontrare anche in provincia di Sondrio? E magari passa anche sotto. Speriamo di no. Speriamo di no. Se si dovrebbe vedere fuori in giro, si avvisa subito. Non l'ho visto e non ho sentito nulla. Di fatto l'avvistamento ieri in zona golf di Caiolo un po' di apprensione l'ha suscitata, tanto che è scattata la segnalazione ai vigili del fuoco, che si sono presentati in zona con alcune guardie venatorie della polizia provinciale per un sopralluogo e un'eventuale cattura del rettile. Rettile che, appunto, a detta degli esperti, potrebbe essere un saettone o colubrio di Esculapio, un serpente non velenoso che può tuttavia arrivare ai due metri e non è raro da incontrare ai margini di boschi e boscaglie, radure, prati cespugliati, zone rocciose e pietraie. Alcuni esemplari di saettone si sono visti, ad esempio, di recente all'imbocco della Balcodera e nella zona di Gordona. Oltre a far rima con pitone, il saettone, con il più blasonato rettile, ha in comune anche il fatto di non essere velenoso, ma soprattutto non sono noti i casi di persone stritolate dai saettoni. In ogni caso, né ieri né oggi, il lungo serpente è stato di nuovo avvistato, né sul green di Caiolo, dove certo, visto le dimensioni, non potrebbe nascondersi in una buca, né nei paraggi.